Musica Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini in questa seconda stagione che prevede questa edizione per così dire slim, sottile ma densa, molto densa la formula è nuova perché in ogni puntata noi ospiteremo un nostro ospite al quale faremo un sacco di domande per cui formula slim ma intensa, oggi siamo in compagnia di Roberto Forni, buongiorno Roberto Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato qua, sono molto contento di essere a Casa Rossini Visto? Siamo in questo salotto così accogliente, la casa della nostra tv, insomma questo è lo spirito con il quale stiamo accogliendo i nostri ospiti. Allora Roberto Forni, titolare e socio della Della Rovere Office & Contract, me lo sono segnato perché c'è questa parte inglese insomma che va spiegata direi Esatto, esatto, siamo un'azienda, io ho un socio che si chiama Danilo Caravaggio che salutiamo che è un'azienda che esiste da 30 anni, è stata fondata da mio padre che già faceva mobili per la casa e se l'azienda fosse ancora viva, la FBL per qualcuno magari qui di Pesaro la conoscerà probabilmente avrebbe 46, 47 anni e quest'anno ricorre il trentesimo anno della nostra attività noi siamo un marchio veramente riconosciuto nel mondo per i nostri arredamenti d'ufficio noi facciamo design, vero, quindi ci impegniamo a fare delle cose originali che poi proprio il nostro fiore all'occhiello, quello che ci viene riconosciuto da tutti, uno potrà sempre dire mi piace o non mi piace un mobile di Della Rovere, poi non potrà mai dire che non è originale ci investiamo un sacco di tempo per farlo, abbiamo lavorato con Archistar come Karim Rashid che hanno disegnato scrivanie uniche come la 1 e la 0 in materiali assurdi, innovativi come il poliuretano compatto ad alta densità invece del solito legno, oppure la vetroresina materiali faticosissimi da lavorare quando si è stato proposto il disegno nel 2008, nel 2007 poi uscito nel 2008 non sapevamo come realizzarli, beh queste sono diventate due icone del mondo dell'arredamento d'ufficio presenti in tanti musei nel mondo di arte moderna in maniera permanente e addirittura nel 2008 la scrivania 1 di Karim Rashid ha vinto il Good Design Award dall'Ateneo Museum di Chicago come il miglior design di scrivania al mondo Ecco spiegato perché design fa parte proprio praticamente della vostra quasi ragione sociale insomma la chiave principale è realizziamo ma soprattutto disegniamo e disegniamo non solo quello che è appunto l'elemento ma disegniamo un modo di vivere nell'ambiente lavorativo, questa è un'altra delle formule che voi proponete no? Assolutamente sì, noi passiamo la maggioranza del tempo o nel letto oppure nel mondo dell'ufficio nella nostra schivania nel posto dell'ambiente di lavoro fare le cose bene quindi progettarle, la parola contract rientra tra le cose che noi facciamo insieme spesso gli architetti dei nostri stessi clienti in maniera di rendere al massimo confortevole il posto di lavoro chiaramente qui c'è tanto da capire di ogni singola azienda perché non tutte hanno le stesse esigenze chi vuole raggruppare gli stessi dipendenti, chi le vuole in maniera singola, chi le vuole un po' e un po' l'utilizzo delle sale e riunioni, le pareti attrezzate quindi riuscire a trovare un giusto connubio per ogni singolo cliente non è banale diciamo che come azienda siamo imperfetti anche come persone è evidente però conosciamo bene il nostro mestiere e in questo caso noi riusciamo diciamo non siamo mai contenti finché il nostro cliente non è contento io sono andato a vedere il vostro sito naturalmente perché oggi come oggi è la vetrina principale di solito da lì si capiscono tante cose e la prima cosa che si capisce è che il sito può essere fatto bene o male poi dopo che qualcuno fa il sito bello e poi dopo magari c'è meno sostanza qualcuno non riesce a farlo bello e la sostanza è tanta e lì dopo ci si confronta con la realtà il vostro sito è molto ben fatto ma anche la vostra attività è molto ben fatta e mi ha dato subito l'idea di qualcuno molto attento a quello che sta succedendo sai perché? Perché sono andato a vedere e ho visto quest'idea dello smart working dico ma a cosa c'entra? E invece no, giusto, ci sta in pieno con quello che hai appena detto voi state attenti agli ambienti di lavoro nel momento in cui la pandemia ci porta a ragionare di un ambiente di lavoro casalingo voi cosa fate? Create anche una linea dedicata all'allestimento di uno spazio casalingo per lavorare. Assolutamente sì, noi abbiamo creato giustamente qualcosa che potesse essere utile anche diciamo al mondo della casa e in questo senso l'abbiamo fatto in maniera sempre elegante, logica, funzionale però io qualcosa sullo smart working bisogna che lo dico e mi rifaccio qualcosa che dice sempre mia moglie sui film che io amo guardare e lei non ama guardare, no? È il classico di uomo e donna, quello romantico delle donne e quello d'azione degli uomini che dice che le migliori film di fantascienza che partono con le armi più fotoniche finiscono sempre con il buono e il cattivo che fanno pugni, no? Classico, no? Certo. Con la Buzz Spencer a Terence Hill. Ecco, io credo che lo smart working sia una buona cosa ma fino a un certo punto. Certo. Cioè abbiamo la necessità di fare i famosi pugni passatemi l'associazione di frase con il lavoro perché il team si fa solo veramente al lavoro quindi quello per me è un momento importante, speriamo che passi ma vivere tutta la vita a casa, quindi la vita familiare, l'attività familiare e l'attività lavorativa è troppo. Quindi piano piano tutti ci stiamo riappropriando del mondo ufficio, reale, poi dopo che alcune cose per fortuna si possano fare anche da casa questa è veramente una cosa bella dei nostri tempi. Quindi noi siamo l'1% di quello che abbiamo fatto per lo smart working, però crediamo fermamente al mondo arredamento ufficio o l'ufficio vero dove si lavora tutti in team. Certo, mi trovi d'accordo e io l'ho segnalato solo per far capire ai nostri telespettatori quanto la vostra azienda sia attenta a quello che succede. Cioè si va sulla base di certe idee, di certi concetti, di certe formule, di alcuni studi fatti di design però si sta anche con gli occhi aperti, se succede una cosa voi siete pronti a inserirvi in quello spazio. E quando ci siamo sentiti per telefono mi hai raccontato una cosa molto divertente sulla nascita dell'azienda perché ne hai fatto cenno adesso, hai detto la tua famiglia, tuo padre, la FBL poi a un certo punto invece dalla FBL per gemmazione nasce un'altra azienda che poi diventa della rovere. Ma è stata una gemmazione impegnativa e strana da quello che vi hai raccontato. Beh sì, allora qui a parte ci vorrebbe mio padre presente, ma comunque diciamo che mio padre faceva i soggiorni e oggi sarebbe il living, la zona giorno, no? E riceve una commessa di 12.000 camere per la Libia. 12.000 è un numero incredibile, no? Cos'è? Un ottavo della città di peso, 12.000 camere tantissimo, matrimoniali. Per la Libia perché all'epoca il signor Gaddafi dava oltre alle case ai propri abitanti, ai propri cittadini anche proprio l'arredamento, dal frigorifero o qualunque cosa, grazie a un contatto, non saprei bene, io ero un ragazzino, non mi ricordo molto bene sta cosa, però insomma fanno queste 12.000 camere che sono una cosa diversa da quella che facevano e non potevano lasciare il core business di quel periodo. Quindi cosa fanno? Prendono un cappannone, lo prendono a calcinelli, il primo libro, vanno a prendere operai qua e là, parte questa produzione in un mese di preparazione e sei mesi di consegna. Tra l'altro sottoscritto all'epoca avevo 18 anni perché avevo appena preso la patente, mi ricordo bene, e i tre mesi estivi ho lavorato a fare queste radio in fondo, magari incredibili, radio con le manopolone, con le plafoniere, quelle proprio con la barretta, no? Perché anche nelle case popolari Gaddafi comunque voleva che fossero messe tutte le caratteristiche tipiche, esatto, no? Insomma dopo queste 12.000 camere, non ricordo bene, ma ne fece altre 3-4.000, il signore contatto muore, non so per quale ragione, muore, e dopo di questa azienda non si sa bene cosa fargli fare, prima si fa un tentativo in un modo, poi in un altro, poi in un altro ancora, alla fine, facciamo mobili d'ufficio, però toccava dargli un nome bello, no? Allora siccome nel Monte Feltro i miei padri piacevano i della Rovere, nasce sta cosa dei della Rovere. Tu mi hai detto prima della Rovere Office & Contra, perché? Perché della Rovere è un bellissimo nome, veramente bellissimo, contiene al suo interno anche Rovere, che è una parola del legno, anche se non è proprio questa, però dire che cosa fai è importante perché potrebbe essere qualunque cosa, no? Da un ristorante a... Allora mettendoci su fisso Office & Contra, abbiamo finalmente chiarito, magari per quei pochi del settore che non sanno cosa facciamo, chi noi siamo dopo un nome nobiliare come questo. Bene, e naturalmente in questa ricerca di design, voi vi siete affidati, mi hai fatto qualche nome prima, ma qualche altro nome me l'avevi fatto, me l'avevo appuntato Andrea Stramigioli, Stefania Tognoloni, che poi ha portato alla creazione di questo marchio che vi siete inventati in tempi recenti. Esatto, esatto, diciamo in occasione del trentesimo anno. Allora, una piccola premessa, allora, noi gli architetti li prendiamo sempre che non abbiano mai disegnato arredamento d'ufficio, ma la cui mano ci piaccia, ok? Quindi cosa succede? Perché facciamo questo? Perché l'architetto di per sé, a me piacciono tanto, hanno veramente una fantasia, migliorano il nostro mondo dove viviamo. E se uno ha disegnato tante scrivanie, o tante sedie d'ufficio, quello che è, dopo ha la mente un po' come la mia, un po' chiusa, perché vede sempre le stesse cose, non avendolo mai fatto, ho una mente aperta, tant'è vero che realizziamo cose uniche. Ecco, l'ultima è la signora Stefania Tognoloni di Rimini, che è un architetto bravissima, al quale ho dato un compito difficile, di creare un mobile, una serie di collezioni di livello molto alto, quindi inserendo la pelle, il legno, tutte cose ecologiche, ecopelle e legno riciclato, però facendolo di un livello molto importante. Ecco, lei è stata bravissima e una volta che abbiamo visto cosa sta venendo fuori, ci siamo detti, beh, è il caso di dargli un valore aggiunto, un valore elevato. E allora abbiamo fatto nascere il brand I Rovereschi. Da Della Rovere nascono i Rovereschi, un po' come da Michelangelo, Michelangeleschi, Raffaello, Raffaellesco, quindi rimaniamo sempre noi, perché già Della Rovere è un grande brand name, il quale si eleva facendo i Rovereschi. Abbiamo fatto questa collezione che sta veramente uscendo in questi giorni, ma già avendo un successo importante. Prima di venire qui ho avuto la telefonata di un mio cliente importante, l'Arabia Saudita, che martedì verrà qua con il suo cliente, perché deve vedere tanti prodotti. Ma noi non facciamo prodotti per gli arabi, noi facciamo prodotti per tutti, anche perché vorrei togliere dalla testa di tutti il fatto che l'arabo non abbia un buon gusto, o il tedesco, cioè il gusto è quello. Quindi noi facciamo cose belle che piazzano prima a noi, poi dopo... E dopo trovate chi nel mondo incontra il vostro gusto e lo trova. E c'è nel mondo, c'è tanto mercato? Allora, una risposta simpatica, il mercato qua è al martedì di solito, negli altri parti del mondo non lo so. Allora, il mercato c'è sempre ovunque, ricordiamoci che comunque siamo una piccola azienda e c'è sempre spazio di crescita. Chiaramente ci vuole sempre un motivo per esistere. Noi siamo un'azienda che punta veramente sul design e servizio, è una domanda fatta a tantissimi dei nostri clienti, che spesso sono distributori, rivenditori, è stata perché compri da della rovere? Che è una bella domanda, no? Non è per il prezzo, non è per tante altre cose, perché non siamo un'azienda di prezzo, sebbene abbiamo qualunque tipo di scrivone, anche quelle economiche, per noi però, non per il mercato basso. La risposta è stata per il design e l'originalità e per il rapporto umano e il servizio che ci date. Ecco, quando noi incontriamo qualche cliente, rivenditore, distributore nel mondo, in Italia, che ha questo concetto, noi ci lavoriamo bene e lui lavora bene con noi. E anche perché amiamo il discorso del team, il concetto del team, la squadra. Per noi la squadra è tutto. Cioè, io non siamo un'azienda da mordi e fuggi, compri una volta un orologio e è finito. Cioè, noi siamo un'azienda che ha bisogno di avere intorno a sé qualcuno che gli fa fare un progetto, che ha bisogno di cose spesso complicate, ha bisogno anche di una parte di servizio che è su misura, perché gli uffici, purtroppo, per fortuna, non sono mai uguali. Quindi c'è sempre qualcosa da fare. Prima di andare in onda, mi raccontavi di questa escursione che avete fatto sul territorio a Frontone, eccetera. E io ho visto questa luce che mi piace sempre trovare negli occhi delle persone con cui parlo, questa luce di passione nei confronti di un territorio. Voi siete un'azienda radicata sul territorio, perché, l'abbiamo detto un attimo fa, nascete addirittura da un'azienda che era già una delle più importanti del territorio oltre quasi 50 anni fa. Chi lavora sul nostro territorio e però ha una vista panoramica sul mondo, mi fa sempre venire in mente una domanda. Ti è mai venuto in mente di spostarti? Oppure ti è mai venuto in mente che mannaggia sono qui ma se fossi in un altro territorio lavorerei meglio? Bella domanda questa. Allora, molti me l'han detto, me l'hanno proposto e mi hanno insistito su questo argomento qua. Io penso che ci vuole innanzitutto coraggio a vivere nella propria nazione, regione, paese e questo non vale per noi di Pesaro, qualunque posto. Secondo, io sono radicato qua e ritengo che ci sono delle cose che vanno messe assieme. Uno è lo spirito di appartenenza, ma l'altro è la qualità della vita. Cioè, io so che per fare certe cose di cui non ne sento il bisogno e non mi sembra neanche una cosa tanto adatta a me, ok? Bisogna pensare proprio al discorso della qualità della vita. Io so, perché giro il mondo, che qua si sta bene e io so anche che se volessi aprire una fabbrica da un'altra parte dovrei giocare l'asso di briscola, cioè il sottoscritto, che deve fisicamente andare a vivere là. Io ho una famiglia, ho tre figli, una moglie, ho un gruppo di amici, ho una serie di... come ogni persona e do tanto valore a questa cosa. Quindi mi piace riuscire qua dove siamo noi. Fino a oggi, dopo 30 anni, ci siamo, quindi qualcosa di buono l'abbiamo fatto. E questo è molto bello, devo dire, è una domanda che ho voluto fare proprio in questa sede rivolgendoci a un pubblico televisivo che ci segue dal nostro territorio, proprio perché è una cosa che sta uscendo molto spesso nelle interviste che io faccio. questa passione e questa integrazione vera con il territorio, questa voglia di lavorare, di starci, che fa arricchire poi il territorio, perché alla fine avere o non avere un'azienda come la tua nella nostra area è elemento migliorativo. Cioè averla è meglio che non averla. Per tutto un discorso di lavoro, per tutto un discorso di interazioni, e tutto quello che fa sì che la nostra provincia sia, il nostro territorio sia sempre più seguito e apprezzato anche da fuori. Per cui sono convinto che aziende come la vostra, come la tua, ma come tante, che si muovono bene sul territorio facciano un servizio anche alla collettività al di là del fatto che poi comunque c'è un discorso anche di ricaduta dal punto di vista del lavoro. Adesso parliamo di dipendenti, parliamo di famiglie, parliamo di persone che lavorano. Di indotto, troppa gente. Sì, sì, la parola impresa. Un imprenditore fa un'impresa. E devo dire che in Italia è proprio un'impresa. Su questo, dopo 30 anni lo posso dire, ci sono degli ostacoli che sono assurdi, assurdi, veramente assurdi. Per cui tu devi fare tante cose. C'è un socio di maggioranza che è lo Stato, capito? Ci sono... Se avessi la bacchetta magica, che colpo daresti per fare cosa, no? Dopo diventi impopolare. No, ma una bacchetta magica, diciamo, una bacchetta magica buona, dai. Una bacchetta magica... No, io sicuramente cambierei il modo di retribuire i dipendenti. Cioè, per intenderci, se un dipendente prende 1000 euro, non prende nessuno 1000 euro, però giusto per fare un esempio, noi ne paghiamo 2,2 allo Stato. Ma quel 1.100 o 2.200 di differenza è per la pensione, per la cassa integrazione, eccetera. Io preferirei pensare meno blocchi, 1.800 di stipendio, e 4 di tasse. 1.700. Cioè, dobbiamo dare più potere di acquisto a questi signori, meno vincoli agli imprenditori, a loro stessi, perché se tu riesci a far girare i soldi, è un'economia. Bisogna avere un po' di coraggio. Cioè, bisogna che anche lo Stato sia un po' imprenditore. Se posso dire una cosa, in questo periodo di pandemia, secondo me per la prima volta negli ultimi due anni, forse come quando ci sono le guerre, per fortuna non l'abbiamo mai viste, ma lo Stato ha fatto quello che doveva fare, nel bene o male, sicurezza, salute, servizi, tutto quello che cominciava con la scuola, tutto quello che comincia con la S, perché ha lasciato perdere tutte le altre, si può dire pataccate, cioè tutti questi, si è concentrato sui motivi principali che secondo me sono quelli, strutture, strade, tutte queste cose qui. Questo secondo me è stato un bene di questi anni, io lo penso veramente, mentre quando le cose vanno troppo bene, ci perdiamo in discorsi su discorsi su discorsi che complicano solo la vita. Ai nostri telespettatori, in questi ultimi due minuti, cosa diciamo, ho visto che la tua azienda è sul territorio, ma comunque ha questa visione prospettica sul mondo, può esserci tra i nostri telespettatori un potenziale cliente, o comunque che cosa raccontiamo a chi ci sta seguendo? Questa è una domanda difficile, perché normalmente, tolto l'imprenditore, l'ufficio acquisti o l'architetto che influenza l'imprenditore, chi lavora su una scrivania la subisce, non la sceglie, a differenza di un divano, che dice che per casa mia la sceglie io, quindi la maggioranza delle volte la subisce. Beh, suggerite agli imprenditori, se ci sono meglio, agli uffici acquisti, eccetera, di scegliere della rovere, perché fondamentalmente porta bene. E questa cosa, perciò che ce la ricordiamo, oltretutto è molto confortevole vivere su della rovere. Ma sei uno spettacolo, dall'altra parte, insomma, commerciale, l'abbiamo detto, l'altro socio di cui hai fatto cenno e che salutiamo in chiusura, Danilo, lo consideriamo nella parte amministrativa e tutto il resto. Sì, fornitore, amministrativo, ma ognuno ha un ingrandimento importante, non c'è nemmeno dipendente, soci, tutti abbiamo una funzione importante. Però una cosa sul commerciale, perché dopo uno confonde commerciale con commerciante, che non è. Per me è fondamentale che chi va a vendere dica la verità con passione. Certo. Cioè non c'è altro, sembra che uno deve intortare l'altro. Tanto viene fuori. È tutto molto vero. Se uno non fa le cose, le dice le cose, io non riesco a dire mai una bugia, per esempio. Bisogna dire le cose con passione, con verità e convintamente. Poi se si riesce bene, se non si riesce, hai fatto del tuo meglio. Roberto, ci hai convinto e con un saluto a tutta della rovere, compreso appunto Danilo Caravaggio. Per un attimo mi sfuggiva il cognome, invece lo diciamo. Non si poteva dire Caravaggio, Caravaggesco. Esatto, Caravaggio, quello potrebbe essere una prossima linea, chi lo sa. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi e magari se c'è la possibilità ci rivediamo anche in un'altra occasione. Molto vero. Il saluto di Casa Rossini, il soggiorno, per dirla con un gergo di ormai di qualche tempo fa, il soggiorno di Casa Rossini è a tua disposizione. Tienici informati sugli sviluppi dell'azienda e su come vanno i rovereschi e tutte le altre linee. Grazie, grazie a tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi. L'appuntamento è a una prossima puntata di Casa Rossini con un prossimo ospite. rimanete sempre con i programmi di Rossini TV e ancora grazie a Roberto Forni. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.